buonasera porno camperisti e bentornati su sbragliando il canale dei poco normali grazie grazie infatti io il sabato sera ogni tanto chi posso invitare se non questi ospiti meravigliosi allora io intanto non ho mai ospitato il generale max longo che saluto qui alla mia destra ciao max un applauso a max ciao max ciao matteo ok e sotto di me abbiamo arcadia on the road tale jack alessandro l'enciclopedia dei camperisti ce l'abbiamo qua sotto qui da noi quello che invece non assomiglia a un'enciclopedia è roberto il camionista per fortuna perché è più live noiosissima ed è quello che stasera non vogliamo perché stasera siamo qua allora mi piacerebbe parlare di un argomento che è molto caldo parliamo di territori che volutamente vogliono chiudere le porte ai camper ovvero non si parla solo di divieto di sosta quindi non solo di sostare in un qualche territorio ma anche il transito ci proprio non li vogliono non li vogliono non li vogliono allora la domanda che sorge spontanea è perché non ci vogliono perché non ci vogliono perché noi camperisti siamo visti come quella categoria che non può avere un futuro in questi territori è una cosa che io sinceramente non riesco a comprendere ora io sì molto bene tu sì molto bene purtroppo adesso vado a vedere perché mi risulta mi risulta che sono in privato e non vedo la chat perché non poteva andare bene anche io non la vedo non poteva andare bene però siamo in live quindi va bene in live allora cosa hai sbagliato non lo so adesso ci vado a guardare nel frattempo nel frattempo nel frattempo chiedo a miei ospiti di parlare nella loro esperienza da camperisti navigati e quanto se hanno avuto mai a che fare con questo tipo di restrizioni ok e e cosa ne pensano io farei partire se d'accordo con me il nostro amico alessandro arcaglia che sicuramente qualcosa da raccontare anche la chat noi non la vediamo noi non la vediamo adesso ci lavoro mentre che mentre che parli tu io provo a lavorare ma in realtà ragazzi la questione dell'odio camperistico perché siamo degli zingari è annosa vado a spiegarmi già io quando cominciai a uscire col camper nel lontano 2007 2008 si sentiva questa cosa c'erano già all'epoca le parti informative erano meno e c'era come punto di riferimento che c'è ancora ed è un secondo me un fantastico forum che è camper online che io l'ho sempre trovato veramente un punto di riferimento fantastico e c'erano già le sottosezioni con le parti che odiano i camperisti dove non andare le regioni mi discorre una su tutte ad esempio la liguria la liguria avevi tantissime zone in cui proprio scordati di andare in camper ma perché tu gli davi fastidio ok tutto il litorale la parte ad esempio non parliamo quando ti avvicinavi a sanremo sanremo c'erano proprio i divieti dei camper perché l'amministrazione comunale ti diceva che non volevano vedere i panni stesi fuori da queste cose proprio da campo nomadi non si fanno e questo è un discorso c'è nel senso c'erano i comuni dove dici io sono quello bene quello del turismo ricco te camperista che sei uno straccione qui non ci viene a fare del pacciugo punto e lì ci può discutere o meno però tenete conto che l'altra realtà erano sono anzi i comuni che non avrebbero niente a che dire con il discorso anzi vi farebbe anche piacere se il camperista si comportasse in maniera se non altro civile cioè niente scarico selvaggio niente parcheggia la boia magari fa girare anche un po l'economia giusto ma assolutamente sì c'è il camperista medio fa girare l'economia perché noi andiamo in posti andiamo a comprare comunque in piccole in piccole botteghe di paese c'è l'economia la fa girare il problema è quando i nostri comportamenti fanno cagare ragazzi è brutto da dire perché poco cagare no scaricare in riva al mare parcheggi selvaggi assembramenti che neanche casa monica quella villa anche no dai c'è c'è qualunque qualunque amministrazione comunale un po' se ne avrebbe a male per cui c'è c'è ci sono queste due realtà c'è il comune che proprio non vuole il camperista a prescindere cioè tu sei brutto puzzi qui non ci vieni punto puoi essere anche la persona più bella del mondo ma io non ti voglio e l'altra invece dove siamo noi che siamo riusciti a farci odiare e quella secondo me la parte più brutta perché ancora oggi tu vai in alcuni posti dove vedi proprio le persone locali che ti guardano male e lì ti guardano male a cosa ho fatto bisognerebbe vedere cosa hanno fatto prima di te è quello il problema in sardegna è un momento che non è che la stanno prendendo bene spero che ci sia qualche sardo tra di noi non la stanno prendendo benissimo tutto questo come dire nuova interesse verso van life sardegna che bello tutti là in giro per vorrei fermare un attimo alessandro dicendo che io la chat adesso la vedo tramite youtube non la vediamo noi comunque vi posto le domande io quelle più interessanti in diretta ok facciamo così dai no ma infatti non la vede nessuno di noi tranne me perché sono il più bello è detta questa possiamo chiudere la live qua no allora scusami alessandro continua tecnicamente io ho terminato nel senso queste sono le due problematiche basi che esistono del perché determinati tipi di amministrazioni ci odiano tenete conto che abbiamo anche determinati tipi di categorie che ci odiano ci siamo un po' presi per il culo alla paolo bitta da una vita da tutti ok ma va bene cioè ci sta ognuno io penso sempre che quando tu come se parlassimo di moto ci sono quelli che gli danno fastidio i motociclisti cioè tutto il mondo è paese ragazzi ci siamo italiani ci stiamo sui coglioni fra una provincia e l'altra io sono a bologna ci stiamo sui coglioni con i ferraresi però ci danno fastidio anche i modenesi e se sei di reggio emilia c'hai un po' la testa quadra è vero non abbiamo un'unità serie siamo molto campanilisti quindi quando vai in un diciamo in un piccolo paese in una piccola borgata con ognuno ha le sue regole le sue leggi arrivi te da bravo camperista ti fioppi i mezzi campi magari fai del pacciugo scalfa del casino la gente non la piglia bene dicevi robin dicevo no il discorso adesso io mi sono perso una parte perché mi sono un attimino scollegato ho fatto successo tutto un casino mi sono perso una parte del discorso di ale quindi non so se l'abbia già tirato fuori il mio pensiero è attenzione noi paghiamo anche lo scotto di quelli che sono tra virgolette sono stati nei tempi a dietro gli zingari sì sì no è vero hanno paura a tutti ed erano quelli che di solito si fermavano in un posto con un canto ragazzi mi stacco un attimo che provo ad avviare la chat arrivo subito eh perfetto secondo me noi paghiamo leggermente anche quello scotto lì eh il discorso è sta a noi camperisti che non siamo tra virgolette io non voglio accusare la categoria o la però che non siamo gli zingari quindi gli zingari intesi nel senso nel termine tra virgolette dispregiativo quelli che fanno casino quelli che sporcano quelli eh non non assolutamente perché ho avuto il piacere di conoscere famiglie sinchio roba del genere le persone più bravi di questo mondo sì no certo non è quello però gli zingari intesi nel senso dispregiativo dispregiativo che sono quelli che hanno un po' spaventato tutti perché perché arrivava il camper che non conoscevi poi dopo cominciavano a rubare in casa una barra dell'altra e allora la cosa spaventava un po' tutti quindi paghiamo molto a mio parere anche quello scotto lì concordo poi va detto che da quando si è cominciato ad ampliare e negli ultimi periodi in maniera abbastanza notevole il discorso dei camperisti e del plein air è logico che una parte di noi fortunatamente una grossa minoranza eh però non si è fatta voler bene fa di tutto per non far ovviamente la minoranza si sta allargando perché più o meno la minoranza siamo noi la minoranza quelli che rispettano le regole ehm io penso che c'è ci sia anche una cosa fondamentale è che quando eh l'ha detto sia Matteo eh in qualche live e l'ha detto anche eh qualche mese fa Ale quando entri in casa ad altri toc toc sì bussa fatti vedere fatti sentire ehm io ricordo un ricordo Armando che ha detto qualcosa a proposito degli italiani in Marocco che ciao Matteo fece proprio fece proprio un video hai ragione Max sì ha fatto nel canale WDN sì cioè io eh io ho detto lì mi si è aperto un po' il mondo eh gli ho detto ma questi italiani che arrivano con i camper strappieni di roba eh che non spendono mezzo centesimo e campeggiano per mesi e mesi e non magari vai lì a comprare qualcosa nel suc vai lì a comprare volevo solo dirvi che abbiamo anche camper Giamma con noi grandissimo grande bro grande bro grande bro grande bro ciao bro guarda dopo questa anticipazione così a già Mario non c'è Bairas non c'è Bairas non c'è Bairas scusate se non potete vedere la chat però ci sono quasi tutti c'è Tabor c'è il pelato di Bradzers c'è Robbio di Reggio e c'è anche il nostro amico camper Giamma che mi fa troppo piacere veramente ragazzi camper Giamma per un po' vedrete sul nonno un un impianto da paura eh cioè quel camper lì è è è è magico impianto a litio? ma 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 io gli faccio anche una sorpresa al brodino eh io io starei starei preoccupato Giamma te lo dico due giri e soprattutto togliamo il Vairas al motore esatto beh dicevi Max scusami no dicevo che cos'è che stavo dicendo non mi ricordo più stavi dicendo che un po' pagano pagano lo scotto sì diciamo che ci stiamo allargando come come bacino di tenza e quindi alcuni pagano un po' lo scotto e mi faceva riferimento ad Armando ah ecco il Marocco diceva Marocco un sacco di un sacco di italiani che vanno lì non spendono niente non fanno girare l'economia e magari c'è il poveretto lì del suc che aspetta che magari gli compri otto datteri e spendi tre centesimi no non fanno neanche questo eh io io ti faccio l'esempio di eh sotto casa mia io abito a Soave in provincia di Verona dove abbiamo un'area camper ehm ehm un'area di sosta anche mi pare anche molto abbastanza ehm a 5 stelle nel senso che ok insomma tenuta bene fatta bene no allora beh hanno aumentato il prezzo da 3 euro e 50 al giorno 3 euro e 50 al giorno sono passati a 5 euro al giorno tutti in una volta tutti in una volta ok allora carichi scarichi corrente sei in centro al paese eh di fianco c'hai i carabinieri eh ma veramente c'è tu vedi le mura le mura perché è Soave per chi non la conosce è una città murata tipo Palmanova tipo insomma è molto bella culturisticamente molto bella sei vicino ai carabinieri non ti succede niente però oh porca puttana cioè quando tu quando ci sono gli eventi a Soave i camperisti ahimè campeggiano sempre nei parcheggi pubblici eh senza regole voglio dire allora a te che siano giuste o sbagliate le regole eh del del parcheggio libero nei nei parcheggi pubblici però ci sono ok ci sono le regole ci sono ok ti dicono che non devi aprire il basculante ti dicono che non devi accendere il trivalente che non devi accendere il gruppo elettrogene niente allora quello Max di cui stai parlando ehm probabilmente è un profilo ok eh particolare nel senso che se tu guardi adesso eh il trend ok eh di chi gira in camper soprattutto se parliamo di ragazzi giovani quindi ragazzi sulla ventina trentina d'anni ehm c'è la pretesa di poter fare quello che gli pare ok una volta che hanno anche un mezzo di sei metri e mezzo sette metri cioè dei camper che sono giganteschi ok i camper che non stanno neanche dentro a delle strisce normali di un parcheggio intendiamoci c'hai un culo che esce tanto di così da un marciapiede non ti puoi lamentare se ti danno delle multe non ti puoi le regole ci sono però io vedo però io vedo anche delle persone educate cioè ragazzi io vedo ma c'è un problema di fondo io credo perdonatemi ma è questo il problema allora finché la realtà falsata l'andiamo a ricercare nel mondo dei video è chiaro che da buon ragazzo di 25 anni mici in medesimo due minuti vengo tempestato perché in quel momento mi interessa quell'argomento quindi vado a vedermi questa benedetta van life e vado a vedere che cosa però attenzione video molte volte stranieri anche d'accordo quindi tedeschi inglesi americani vi discorrendo lì è una cosa normale lì la Francia che in assoluto è lo stato più più accogliente per i camperistici in Francia il campeggio libero è normale tu esci ti metti lì apri 27 tendine frega un cazzo nessuno ok dove ti fermi stai e lo puoi fare perché è così la legge non è un caso in america in america esistono proprio i campi delle persone full timer dove arrivano però magari ci sono anche delle regole comportamentali magari confermo e attenzione anche lì ci sono stati ad esempio in america stati dove i full timer non sono ben visti ok quindi c'è tutto il mondo è paese il problema qual è che dopo che tu sei stato tempestato da tutte queste cose ci vedi questa libertà che bello mi fermo ai piedi della montagna poi però ti devi anche ricordare che vivi in italia e in italia l'ottanta per cento di quello che hai visto non si può fare si può fare cioè si può fare tante cose basta rispettare le regole le regole ragazzi si cambiano con il tempo e con la pazienza non con l'arroganza se no otteniamo solitamente l'effetto contrario quindi siccome gli altri lo fanno lo faccio anch'io credo che sia perché tanto non faccio niente di male credo che sia una diciamo una prospettiva fallimentare ecco magari ragioniamoci assomiglia assomiglia a una scusante cioè il fatto di dire sì cioè io non faccio nulla di male io me ne vado una scusante la vedrai come una facilitazione vabbè tanto lo faccio così chi se ne frega ma sì tanto sono qua da solo non mi caga nessuno non mi caga nessuno esatto il problema è che lo sei tu ma fra due settimane siete in due tra tre siete in quattro tra dieci siete in venti quando poi siete in venti in un luogo dove prima non cagava il cazzo a nessuno adesso invece ti chiudono il territorio però questo questo va anche c'è anche da dire che se tu apri un canale di youtube se tu apri un canale youtube devi anche assumerti delle responsabilità canale youtube vimeo quello che vuoi devi anche assumerti delle responsabilità un profilo social un profilo social un personaggio pubblico un profilo pubblico un minimo di responsabilità ce l'hai non puoi dire quello che mi pare io vedo delle persone non alla volta non alla volta io vedo delle persone estremamente educate come l'amico camperjama che ha io che al quale io mi piace anche dargli ogni tanto dirgli delle cose delle perché perché è un ragazzo che rispetta le regole poi ci tieni il discorso è che ci tieni e poi a me piace a me piace quando dice oh ragazzi ditemi cosa ne pensate nei commenti certo ragazzi allora dovete capire una cosa che qui non si nasce imparati cioè io ho imparato più dalle critiche che mi sono state date in questo neanche anno di youtube perché io sono partito ad aprile ok faccio un anno ad aprile ma in questi pochi mesi di youtube ho imparato molto più dalle critiche che mi sono state date da persone come ad esempio max come robbie come arcadia come potrebbe essere alessandro il ciuffo andrea penno il pelato di brazzers che cazzo ne so io ne sto tirando anche alcuni a caso però sono quelle le critiche che fanno bene a un canale e automaticamente fa bene anche a chi lo guarda il canale io invece che cosa sto continuando a vedere da attuale non camperista sto vedendo dei ragazzi che aprono un canale e allora siccome tu apri un canale diventi automaticamente un master of the universe cioè allora se tu se tu stai continuando a guidare così no no perché eh cazzo io adesso guardate la strada cioè sto facendo così cioè oh ragazzi ma tu stai lanciando un messaggio a dei ragazzi che magari non sanno come funziona che è bello è faffico guidare con una mano sul volante quando il codice della strada ti sta dicendo che devi usare due mani sul volante è una regola stupida facciamo che è una regola stupida e per quanto vi possa sembrare strano va rispettata è il succo di tutto puoi essere anche non d'accordo su una regola può anche non piacerti ma se ti piacciono le regole vanno rispettate se tu decidi di non rispettarla prima di tutto ti assumi la responsabilità di quello che stai facendo magari dillo ma secondo quantomeno non dirlo pubblicamente stai zitto fallo per conto tuo o non farlo vedere su una pagina ma soprattutto non ti lamentare se mi è arrivata la multa mi è arrivata la multa mi è arrivata la multa mi hanno mi hanno segnalato cioè questo l'ho fatto anch'io di segnalarmi l'ho fatto anch'io però mi hanno segnalato per una sculacciata segnalo ti segnalo sei un maniaco sessuale allora poi il must il must che sta imperando ovunque adesso è il drone figata bellissimo è questa guarda Max mi hai dato una info fantastico guarda Max facciamo così facciamo una piccola premessa allora cosa succede per chi è diciamo un utente abituale di youtube e guarda il nostro settore negli ultimi anni c'è stato un esploit di droni e di riprese dall'alto che sono fighe sono belle cioè ti portano a fare visualizzazioni poi c'è la musichetta poi c'è la musichetta ti fa chiaramente un contenuto video è un contenuto video contro cazzi è un video col sugo è un video col sugo e a me piace da morire a me piace da morire il drone infatti è un oggetto che ad esempio ho comprato anch'io perché mi piace veramente tanto poter fare questo tipo di riprese segnalo segnalo hai detto drone segnalo drone però il problema qual è è che per comprarsi un drone non tutti i droni intanto sono uguali e poi ci sono delle regole da seguire per poter volare con un drone e qui lascio parlare Max perché prima della diretta ci ha dato delle info delle info veramente interessanti che nemmeno io conoscevo prego Max allora allora intanto io non sono un esperto ma mi sono un minimo documentato perché in parte per altre cose ci lavoro per quanto riguarda l'ambiente l'antibraconaggio e queste robe qua a prescindere da tutto che tu abbia un drone che pesa un grammo o una che pesa 25 kg a prescindere dalle abilitazioni ENAC dai patentini da tutto comunque per volare su certe zone devi essere autorizzato o quantomeno è regola di buona educazione pronto comune di Monte quello ciccio pasticcio ci sono problemi se se volo sul vostro territorio e lo pubblico sul mio canale di YouTube dove ho questi contenuti dove ho questo dove ho quell'altro perché è comunque se tu sorvoli un'area protetta un parco naturale il Gran Sasso le Alpi Cozzie piuttosto che il parco nazionale qualsiasi è devi essere autorizzato e le autorizzazioni le danno ai professionisti dietro presentazione di un progetto ok arrivano sanzioni pesantissime che tra l'altro sanzioni che sono state anche pubblicate recentemente sui quotidiani ne stanno dando ampio poi in un periodo in cui molti hanno bisogno di monetizzare le amministrazioni comunali adesso se c'è da fare su larga scala qualche punto la faccia esattamente esattamente cioè tu devi chiedere il devi essere autorizzato ma soprattutto devi essere autorizzato se non pubblichi se poi pubblichi non puoi poi andare a piangere non puoi poi andare a piangere allora se tu hai un canale YouTube ti senti autorizzato a dire io volo pubblico faccio clickbaiting ok perché poi dopo non puoi dire che a livello amatoriale perché tu quel video lo usi per fare visualizzazioni e per monetizzare e soprattutto quando dici che adesso è il tuo lavoro io guarda Max ti interrompo un attimo perché voi non lo vedete in diretta ma lo sto guardando io stanno arrivando una miriade di messaggi su un tu dico purtroppo su un fatto che è capitato poche ore fa un giorno fa adesso non mi ricordo che c'è stato chi ha fatto richiesta di soldi ok per per farsi far mettere a posto il camper ora ci arriveremo ci arriveremo perché qui mi stanno veramente massacrando è impossibile non parlarne di questa cosa perché lo stanno chiedendo tutti ma sistemala quella allora no ma andiamo però andiamo con ordine perché tanto la serata è lunga andiamo con ordine qui in primis il mio pensiero è ognuno è libero di fare quello che vuole assolutamente dopo dopo Max guarda continua intanto con il discorso del drone tanto ci arriviamo a questa cosa ah si si o semplicemente no sul drone mi hai dato guarda una info Max no sul drone non ne ho assolutamente conoscenze ma lo vado a leggere volentieri basta basta chiedere basta chiedere se nel territorio del comune di Ciccio Pasticcio è bello che parte il drone e senti la musichetta ok no no su quello che il contenuto sia un contenuto di rilievo se poi vuoi essere uno strafigo nel tuo video fai una piccola sovrappensione autorizzato dal comune di ancora più figo allora lì ancora più figo sei un grande sei uno strafigo però tu che sei nel nome di una libertà o di un'anarchia di cui tu ti sei impossessato senza neanche sapere di cosa cazzo parli un po' strano come hai finito di ciucciare il latte domani hai finito di ciucciare il latte domani sì però stai attento Max perché dopo ti cominciano a dire che sei invidioso ok sei un invidioso e soprattutto sei uno che stai rognando rognando se tu se tu fai così dopo hai una allora a casa mia a casa mia e poi vi lascio la parola perché sennò dopo mi 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 a casa mia siamo qua che ci stiamo filtrando il più possibile ne va del mio canale ne va del mio canale ancora mi sta migliorando nessuno ok allora a casa mia a casa mia un certo tipo di comportamenti a prescindere dal colore politico che si abbraccia negare cancellare bannare ti dico che va bene solo quello che dico io è fascismo che tu sei di destra o di sinistra sei fascista l'atto catafiano perché questo tipo leggermente questo tipo di comportamento questo tipo di comportamento e cioè faccio il cazzo che mi pare e in più ti banno ti banno se dici qualcosa che magari è anche una critica no magari è anche una critica costruttiva sono belle le critiche aiuta a modo di consiglio se tu mi banni perché non ti va bene quello che dico è fascismo allora guarda posso stempero un attimo perché c'è una bomba qui io tutte le tutte le critiche che ricevo che ricevo come tutti però vado sempre a cerca allora a parte le critiche tipo l'altra sera la signora fa bellissimo l'argomento parlavano della diretta ma il conduttore il conduttore che fuma non si può guardare di tutto ci bevo anche dietro ogni tanto ci bevo anche la birra dietro però c'è lì stempri adesso scherzi a parte ci sono tante critiche che sono più o meno costruttive a me me ne fanno spesso una fra l'altro con un utente che conosco Nick Matto che mi fa morire perché giustamente ad esempio io mi occupo tra virgolette passatemi il termine riparazioni economia piccolo fai da te cose del insomma è parte del mio canale non faccio viaggi non ho il drone non farei dei paciughi infernali non è roba mia e ogni tanto mi dicono insomma perché fai la cosa così esteticamente e quindi anche andare a spiegare ragazzi non vi devo fare le cose perfette belle perché se no non avreste un cazzo da ragionare non ve la devo fare io bella finita pulita vi faccio lavorare con la testa quindi se sono arrivato fin lì la tua testa dici cazzo ma avremmo potuto mettere anche la vitina là veniva meglio bravo il concetto è quello lì ma è una critica costruttiva ci sta però se io su ogni video avessi il 50% di commenti che non sono proprio carini io scontra guarda guarda Alessandro qua ti rispondo io nel senso che collegandomi al generale Max a me piace chiamarlo generale Max io ho provato di rallentare la questione no 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 ma infatti noi stiamo parlando stiamo parlando di un argomento per chi si fosse collegato in questo momento che riguarda in sostanza la chiusura dei territori a noi camperisti e stiamo elencando stiamo provando a elencare tutti noi quattro insieme quali potrebbero essere i motivi per la quale noi camperisti siamo visti male molto male e allora facendo un riassunto di quello che è successo fino adesso in questi 30 minuti di delirio è saltato fuori che in sostanza ci sono delle problematiche legate sia sui social che a youtube ai voli con il drone a comportamenti sulla strada con il camper a comportamenti alla guida di un camper soprattutto e qua dopo farò intervenire Roberto perché so che qualcosa lui da dire ce l'ha e lì che è rosso che ormai sta per esplodere non ce la fa più veramente Roberto ti brucia ti brucia quello della verità e collegandomi a quello che diceva max prima facendo questo piccolo riassunto per chi si fosse collegato solo ora le critiche vanno accettate per come sono ovvero se non sono fese dirette o sono cose stupide anche cioè allora esatto io ad esempio anch'io ho bannato allora attenzione anch'io ho bannato nel mio canale ho 5 o 6 comunque dicevamo in sostanza il discorso è questo cioè quando si parla di critiche o si parla di di azioni ok che potrebbero coinvolgere il tuo operato quindi su youtube perché come si dice si diventa personaggi pubblici quindi automaticamente si ha una sorta di responsabilità anch'io come vi dicevo ho bannato delle persone ma perché perché dicevano cose inutili stupide sinceramente inappropriate quindi era inutile tenerle lì ok non mi sembrava il caso per fortuna che sono 5 o 6 e siamo a posto oppure come quello che ha minacciato di morte quest'inverno iari cioè lì lì sarei lì anche lì sarei io il primo ad andarlo a prendere certo no ma cavolo cioè ma sono cose brutte non si può cioè quella è la chiodi cioè ribadiamolo ribadiamolo una cosa brutta una cosa brutta ribadiamolo tutti quanti qui stiamo parlando di gente che fa critiche costruttive ribadiamolo tutti quanti che non pensano che siamo haters no continuando su questo su questo versante non invidiose ok e non che rosicano perché attenzione quando si rosica è perché tu sei un povero uomo che non puoi avere quello che ha un'altra persona e allora potrei anche capire ma stiamo parlando di che cosa cioè di ricchezza no stiamo parlando di cose che possono cambiarti la vita no stiamo parlando di un argomento che per lo più è per noi vacanzieri per noi itineranti per noi camperisti e io mi sono sentito di portare avanti una linea ok che in pochi stanno portando avanti su youtube e quando dico in pochi ad esempio noi siamo in tre in quattro che la stiamo cercando di far coinvolgere anche a voi che ci state ascoltando ma vi posso garantire che adesso stanno nascendo decine decine e decine di canali che presentano tutte la stessa caratteristica e quello e quello è preoccupante perché già io un mesi fa dissi e anche Alessandro può confermarlo che questa cosa qua ci porterà purtroppo a a pagare tutti a pagare tutti a pagare tutti perché dimmi dimmi Max sto leggendo il commento di Penny scusate ma tu i commenti li vedi perché io non li vedo mica no ti devi collegare su youtube Robby perché non li ho attivati ho fatto un casino io hai semplicemente messo la chat privata però dovrei esatto messo privata su StreamYard ma pubblica su youtube comunque io adesso qui ho una serie di domande che mi fanno i ragazzi in chat però è ovvio che tutti sono quasi incentrati su i canali della quale noi abbiamo cercato di evitare di parlare perché purtroppo ce ne sono tanti cioè nel senso non sono quei tre quattro nomi in generale ma ce ne sono altri piccoli che stanno arrivando io guardi guardate ragazzi vi faccio l'esempio di un video che è uscito qualche giorno fa che adesso non mi ricordo sinceramente mi sfugge anche il nome ma fa lo stesso non voglio neanche ricordarlo quello dello sbalzo no quella è un'altra roba no di una ragazza che ha messo il video che mi pare che si sia lamentata della multa di una multa che ha preso ah sì ho visto ok allora ecco quella è una cosa la cosa che mi sta sulle palle di questo video non è tanto il video in sé che si capisce benissimo che è stato fatto per fare clickbite ok per come insomma per cazzo si dice clickbite per raccogliere visualizzazioni per costruirsi una nomea e fare il canale nel giro di poche ore questo canale che era mi pare a pochi iscritti è arrivato al 300% in più di iscritti nel giro di 24 ore 48 perché con un video del genere è ovvio che attrai chi ti potrebbe dare corda ma anche strategie di visualizzazione è una strategia giusto ragazzi però nella strategia ci vogliono i contenuti però dopo nella strategia c'è un problema di fondo ok che è quello di cui stiamo parlando adesso cioè è il comportamento nel senso tu sai che c'è una normativa sai che c'è una regola perché devi non rispettarla e poi fare un video vuole vedere quello che non può fare dove tu scrivo sono stato fermato dai cabinieri oh mio dio con la faccina così un milione di bimbi minchia si insultano bello ci sta ragazzi è giusto è la regola del gioco cioè fa parte del gioco ma io non è una cosa da condannare ognuno quando fai i contenuti io stesso cerchi di mettere ragioni sui video ok facciamo uscire questo migliori il titolo e va bene però chiaramente ognuno ha le sue pensatone è chiaro che quando fai mi hanno fatto la multa mi hanno sgamato mio dio minacce di morte tutte quelle cose cioè qualunque titolo clickbait che possa esistere ho comprato una Lamborghini ok che bello col ferro sotto tutti a vedere la Lamborghini ma ci sta però se questa cosa è a discapito poi anche di te stesso perché quello che io non mi spiego è una cosa tu ami cioè tu nel senso qualunque camperista come posso essere io amo andare nei miei spot in libera dove veramente non c'è nessuno ok e non lo pubblicizzi però non lo pubblicizzi più tu spingi su questa cosa più quei posti non saranno più per pochi ci saranno tante persone più aumentano persone più aumenta il casino eh per forza esatto ci saranno purtroppo sempre più amministrazioni comunali che si incazzate sono apparsi cartelli dove fino all'anno scorso mi è capitato anche quest'estate potevi stare tranquillamente adesso di vieto camper da tutte le parti proprio che era uno dei miei spot preferiti proprio in riva al mare ma in riva al mare un metro è una roba bellissima fino all'anno scorso lo potevi fare più quindi sai a volte ecco capisco la voglia di fare le cose il proprio canale il proprio video però magari valutare bene anche tutto quello che comporta soprattutto perché sai ci può stare il cinico che dice ok ma tutto quello che comporterà non mi tocca quindi non me ne frega niente ma bene quando tutto quello che cioè ti tocca personalmente perché poi devi cominciare a ragionare se puoi andare lì o puoi andare là perché là c'è troppe persone allora potrebbe rischiare di venire meno anche quello che tu sponsoriti insomma no non voglio essere frainteso perché sponsoriti nel senso se io vado alla ricerca della libertà e che bello perché voglio piantare giustamente il camion il van il camper la moto la tenda qualunque roba dove ci sono io e uno scoiattolo dove ci insultiamo per un quarto d'ora ridendo va bene nessun problema però a forza di dargliene ok quel posto diventerà che la prossima volta che vado su ci trovo altri due camper van motoroma poi tre poi quattro poi cinque poi il posto si sputtana perché arriva la forestale qui non si può stare ha blindato tutto due cartelli fine dei canditi perfetto i fuochi vogliamo parlare dei fuochi non entro nel merito il mio concetto è sempre io penso che quando però ripeto ragazzi il mio pensiero non voglio non sto facendo nomi e lungi da me però quando tu ti metti in mostra cioè spieghi un qualcosa attenzione può essere buono fatto bene fatto male tu la pensi così io la penso nero chi se ne frega io ti sto dando un'informazione un'emozione perché se faccio un vlog giornaliero e sono capace di trasmettere ti regalo un'emozione ti posso regalare come si fa il coso un'emozione o le unghie il make up qualunque cosa sia chi fa lo youtuber qui due secondi c'è la idea però quando tu quello che fai ok ti accorgi a un certo punto che ci sono risvolti che per te va tutto bene ok cioè è nelle tue corde il vabbè vado qua chi se ne frega non ha visto nessuno per me si fa così ed è giusto quante volte anche io pensi ma che regola di merda chiunque ha fatto qualcosa poi ragazzi allora stiamo parlando di cose che a volte farne un pregio cioè della serie si dovrebbe fare così ma me ne frega a me e io faccio così perché è bello ok ma attenzione ai risvolti mi va bene la botta dell'anarchico tutto quello che vuoi è bello è bellissimo il tuo pensiero però ogni tanto un mettici non lo fate non cioè non sarebbe proprio da far vedere però la botta un problema è un altro don't try this at home mettiamocelo ogni tanto ecco via un problema è un altro quello che dici te prevederebbe anche del fare un passo indietro del dire non esisto solo io ma no guarda lì ti fermo perdonami vada a spiegarmi però questa cosa spero che riesco a farla passare ognuno di noi ha un modo di esistere di stare al mondo di vedere le cose io rispetto tantissimo chiunque la pensi diverso da me cioè non è anzi io stimo è chiaro che qualunque persona che ha un pensiero magari diverso porta a delle considerazioni queste considerazioni possono essere lette come critiche dall'altra parte io la critica la posso leggere non leggere ignorare mandare a fare in culo oppure farne tesoro ma a me che io ti ho mosso la critica fino a pagina 10 di come tu la usi ok se la critica che ti ho dato era una critica posata e costruttiva perché quando sono minchiate è inutile che ne stiamo a parlare usala come spunto per andarti a informare almeno ma indipendentemente c'è comunque anche solo a fermarti a dire urca aspetta forse voglio ancora fare determinate cose va bene però magari inseriamoci sta postilla che vai mai giustamente magari mi guardano anche i bambini tra virgolette i bambini non è bello far passare cioè diventa un'istigazione delinquere non va bene cioè perché che senso ha ok non posso fare per darti un'idea un canale youtube dove giro per le città e scasso finestrini della macchina facendo vedere la macchina e la targa è lo stesso discorso sei un genio reato diverso stessa cosa faccio questa cosa la metto su youtube non posso pensare cioè posso pensare che sia figo un sacco di visualizzazioni però il messaggio non è corretto fratelli 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 magari facciamo determinate cose la postillina in più ci sta cioè è bello a me piace vedere anche la persona che butta fuori il suo io e ti dice io sono così per me è una gran minchiata che io non posso che cacchio ne sto sparando a zero non posso accendere un falò in una discarica piena di esplosivo e io lo faccio ok ma è una stima ce ne si so figliolo tanta roba perché chiunque si assume sempre le responsabilità dirette e indirette di quello che fa quindi c'è è bello oh figliolo sono con te fratello cioè ci sta se ti senti se ti senti di esternare questa tua cosa ma chi sono io per fermarti i vigili del fuoco probabilmente sì però quelli ci guardiamo guarda io vedo che però io ho massimo rispetto però fallendo il rispetto degli altri non troppo perché diventa poi eccessivo capito diventa è il famoso discorso è un'istigazione delinquere che è stupida cioè non ha senso guarda io spero di essermi spiegato quello che voglio che arrivi da questa live di stasera dopo 45 minuti che sono volati letteralmente è che rimanga un'idea globale di ciò che dovrebbe essere la vita itinerante del camperista ora qui abbiamo tre camperisti Max penso che tu il camper non ce l'abbia ancora non ce l'hai non sei camperista ok io so che c'è Robbie che ormai ha la faccia rossa sta esplodendo so che mi deve dire qualcosa non vede l'ora di farmelo sapere io adesso do la parola a Roberto che lui è un camionista quindi se c'è da comportarsi sulla strada lui sicuramente ne sa più di altri o se non ha fatto talmente tanti chilometri da averne viste veramente tanti penso proprio che ne abbia viste di tutti i colori quindi soprattutto ha anche un camper del cazzo ma c'ha sempre un camper però non buca i suoi bulloni esatto arriveremo 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 anche a questa eh lo so me la devo portare fino alla fine che la stai cercando è niente è niente tu sarai il mio stalker ufficiale d'ora in poi fai te fai te no io voglio fare voglio fare un passo indietro al di là di tutto perché fino adesso abbiamo parlato tanto di del perché non ci vogliono di quelle che sono le rappresentazioni youtube e compagnia bella di quello che succede di quello che alcuni di noi perché hanno ma poi bisogna tener conto anche di tutto quello che è già successo è quello tutto quello che è già successo io faccio invece faccio un passo ancora più indietro io non ho un canale youtube quindi a me fondamentalmente cioè io i miei interventi su youtube sono perché mi chiama matteo ma io io la vedo da un punto ma perché vengo minacciato attenzione a me è difficile però è bello robbie perché robbie la vive da da utente quindi il suo punto di vista è quello di un utente medio il mio punto di vista è quello di un utente sai ecco mi hai tolto le parole di bocca allora il discorso ragazzi a voler far sì che ci vogliano male e poi un attimo e anche il comportamento che teniamo su strada tanto per dirti senza andare a vedere quello che facciamo vedere sui canali social quello che facciamo vedere materialmente alla guida del nostro camper già quello allora una buona parte di noi ha il camper ma al di là del camper che lo usa quei 15 giorni l'anno 20 giorni l'anno un mese l'anno per andarci alle ferie normalmente va in giro con una 500 ragazzi sentiamo di essere consapevoli che il camper non è una 500 i pesi in gioco sono differenti le dimensioni sono differenti le curve i costi eccetera eccetera allora io vabbè io lo faccio di mestiere sono un professionista della strada per me guidare il camper è guidare una bicicletta però capisco che uno che non lo usa normalmente si trovi più in difficoltà allora quello che vi dico io specialmente e qua è una frecciatina ma tra virgolette non polemica ma con chi ha camper diciamo specialmente se sono un po' datati quando vi avventurate nei sorpassi dei camion con mezzi che a malapena fanno fatica a raggiungere la velocità di un camion lasciate perdere cioè perché ti devi mettere lì si si ingarrella sul filo degli 85 lascia stair lascia stair anche perché io col camion faccio e ve lo posso dire la scia aerodinamica io faccio una scia e risparmi carburante e risparmi carburante eh no però frena perché il muro d'aria che io sposto solo che io ho 530 cavalli sotto il culo limitati a 90 all'ora perché la legge dice così perché se potessi togliere il limitatore il mio fa 160 come ridere e senza grossi problemi quindi a me a spostare quel muro d'aria lì non causa nessun tipo di sforzo ma l'aria che esce lateralmente ah ok ok a te ti fai quando sei quasi a livello della cabina quando sei lì stai lì stai lì io ho davanti un altro camion che va più piano e mi tocca rallentare perché tu stai lì se non ce la fai ecco perché era diventato rosso stai dando adesso ho capito prestazioni a tutti adesso metti l'altro io ti traccio la scia tu consumi anche poco stai dove cazzo vuoi andare sei in ferie non rompere i coglioni sulla strada perché poi dopo lo trovi quello che c'è ma Robby Robby scusa scusa tu parli della strada come autostrada e quelli che fanno frodo col camper cosa vuoi fare però attenzione quelli sono 4x4 perché hanno le gemellate se gemellate sono 4 ruote motrizi ce ne sono 6x4 fanno con i 2 ruote motrizi anteriore no ragazzi guarda che comunque cioè e anche lì il rispetto il rispetto ce lo dobbiamo creare anche lì cioè partiamo dopo siamo in ferie perché dobbiamo andare a rompere i coglioni a chi sulla strada ci sta lavorando tra virgolette anche quello lì fa sì che cambi il punto di vista che ha la gente nei confronti dei camperisti certo anche lì a parte che non vedo il fatto di andare in giro con lo scarico mezzo aperto perché avanzi di scaricare se io ti arrivo di e prevedo il camper che gocciano giù l'acqua le prime tre gocce dico è l'aria condizionata ma quando fa la schiuma e mi sporca il parabrezza non è l'aria condizionata che culo ed è un mal costume quello che dice Rob che ha le griglie elettriche e scaricare in autostrada è un mal costume notevole quando vi lamentate quando ci lamentiamo noi camperisti quante volte è successo quando andiamo in posti nuovi che non troviamo un'area di scarico comunale e quelle che ci sono sono dei Vespai cioè che tu quando scendi dal camper devi stare attento ai 2000 calabruni che ti stanno per arrivare incontro perché è un'area completamente abbandonata in mezzo ai rovi ti devi chiedere il perché io ad esempio qua a Scandiano ne ho una ne abbiamo una che è semidistrutta penso che l'acqua funzioni non funziona neanche l'acqua ah non funziona neanche l'acqua perfetto questo è l'esempio questo mi fa capire cosa succede nei territori comunali quando vengono a sapere della presenza di noi camperisti cioè il fatto è questo qui se ci comportiamo in maniera generalizzata voi pagate uno scotto un po' diverso nel reggiano ok cioè è una cosa un po' diversa perché dici così Alessandro perché tutto il territorio reggiano fino a non tanti anni fa era chiaramente casa di diverse famiglie abbastanza importanti nomadi e quindi il problema tra la bassa modenese e l'inizio del reggiano c'era perché comunque tutte le aree di sosta erano comunque prese d'assalto e per chi non lo sapesse Alessandro ha ragione qualche anno fa e Roby può confermarlo a Reggio cos'era via la Regina Margherita mi sembra dove c'è il parcheggio comunale giusto lì si radunavano famiglie di nomadi però c'erano anche camperisti normali nel senso c'erano di tutte le nazioni si mettevano solo che si era creato una sorta ovviamente di 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 borgo e quindi non curano le aree di sosta proprio per non attirarli giusto allora allora cosa succede che vetri rotti distese di vestiti appesi a un filo da albero ad albero a palo a palo sai sei di fianco a posti dove gente deve vendere nei negozi dove c'è comunque una certa movida quindi automaticamente è ovvio che il cittadino che invece ha l'immobile e si vede di fronte delle persone che fanno queste robe qua ovviamente chiama il vigile fa del casino e prima o poi si sgomba tutto perché dopo lì si incorre chiaramente nel reato di campeggio certo di tutte di più c'è l'immazzo per occupazione suolo pubblico ne hai tutte di più chiaramente le norme parlano chiaro ti sposto però se io ti creo delle aree di sosta chiaramente vi fermate lì e quindi dopo usate ci sono stati diversi problemi io guarda adesso vorrei cominciare a vorrei rispondere solo a Esaias Melillo che dice non siete stati giovani a quanto pare nel cuore del giovane risiede la stoltezza quel punto ho fatto delle cose che non racconto la differenza è quella che io non le racconto della roba guarda Robby infatti ti stavo interrompendo proprio su questo allora adesso qua cominciamo cominciamo a rispondere a qualche domanda perché mi sembra giusto scusate vi chiedo scusa più che altro per il mio disguido con la chat per i miei tre ospiti perché non possiamo vederla da vivo ma comunque adesso vi faccio riferimento io allora io intanto rispondevo come ha fatto Robby anche a a Melillo che noi non siamo stati giovani no il cazzo siamo stati giovani anzi lo siamo ancora e certe troiate le continueremo a fare però vedi la differenza Melillo è questa che quando fai una troiata ti vergogni e non la dici e non è ipocrisia perché c'è chi potrebbe buttarla su ma magari non ti vergogni neanche sicuramente ah lo fate non lo dici no cioè non è che mi gaso a raccontare che ho fatto sta roba e poi ci prendo anche dei soldi sopra attenzione anche perché assolitamente la cretinata quando la fai la fai perché c'è una situazione per cui dici cavolo devo fare così ok che ma sai sai già che è sbagliato comunque cerchi di farlo nella maniera meno cazzona possibile se si può dire così certo tutti noi siamo stati giovani tutti noi abbiamo fatto le bravate più o meno grandi io molto grandi quindi non è quello ma non c'è da vantarsene ok e non c'è neanche da sponsorizzarle cioè determinate poi le le scricchiolate le abbiamo fatte tutti cioè guarda l'ultima volta eravamo gli e Giacomo fuori a un certo punto Giacomo mi giuro ve lo dico proprio così mi guarda e mi fa oh ma io è da stamattina che ho il serbatoio delle grigie sempre vuoto poi mentre me lo dice mi guarda e mi fa mi sa che l'ho lasciato aperto cioè ok capita la cavolata capita ho fatto il video l'altro giorno non è che ci ho messo Giacomo che aveva lasciato le grigie aperte cioè non l'ha fatto apposta non è una cosa da far vedere allora io Alessandro qui ho Jigoku Yami scusate il nome si chiama così adesso magari l'ho detto male che ci chiede ormai tutti i canali la stanno chiedendo e sta parlando di Paypal sta parlando dei soldi di donazione con la scusa di sostenere il loro progetto allora io a questa domanda attenzione prima rispondo io e poi dopo sentiamo c'è anche nel mio sì sì ma infatti prima rispondo a questa domanda ma è lì i miei progetti non è un progetto no no attenzione fermi tutti fermi tutti che sennò vi esplode la testa calma allora il discorso è questo Paypal è uno strumento molto comodo ok è una robina che penso che l'abbia inventato quello di Tesla Elon Musk Elon Musk esatto bravissimo cosa è successo che invece di fare scambio di soldi in sostanza ti danno un credito una donazione può essere una raccolta fondi può essere qualsiasi cosa sono soldi virtuali benissimo io come tanti altri youtuber compreso Alessandro compreso penso anche Camper Jam adesso non lo so comunque mi verrebbe da dire tutti tutti lo mette a disposizione perché perché tu sei in pieno ambito laborativo come youtuber cioè ti fai comunque un certo culo a presentare un tuo progetto di intrattenimento ok che può essere di vario tipo ad esempio Alessandro è un'enciclopedia del camper ok io ho dalla mia parte è un'enciclopedia delle cazzate te io sono io sono ignorante ultima edizione esatto io sono l'edizione ignorante del camperista però il mio compito e l'ho sempre detto da subito è quello di strappare una risata a chi mi ascolta poi nel frattempo insegno anche delle cose che possono essere meno importanti per chi è un camperista navigato ma per chi è alle prime armi è l'abc ok dell'appassionato ma anche una cosa guarda che scusami che ti aggiungo una cosa siamo diametralmente opposti per esempio anche sul lavoro che ci porta a fare il nostro canale vado a spiegarmi lui ha per darvi un'idea un tempo di editing video rispetto a me assurdo d'accordo per lui chiaramente ha un montaggio molto più dinamico tanti effetti vi discorrendo il più è parlato c'è la parola dall'altra parte io ho meno tempo di montaggio video perché chiaramente uno sicuramente non è che io sia un montatore video fantastico quindi sto imparando vi discorrendo però il progetto stesso è più lungo perché prevede comunque che non sto parlando e poi lo monto io devo costruire qualcosa quindi vado a fare il montaggio 2000 telecamere quindi io passo più tempo a produrlo nella realtà e poi chiariti di video e il contrario magari Matteo ti capisci che comunque il tempo che tu passi sulla piattaforma è comunque tanto che sia per indicizzare per stare qui in una live in una qualunque roba c'è quindi il discorso delle donazioni ce la vedo anche perché dico da me c'è proprio scritto se vuoi supportare i miei progetti punto ma li vedi sono quelli la cosa che vorrei far capire la cosa che vorrei far capire infatti è proprio questa che è una è un ringraziamento ovvero che si dà nel pagare un caffè non so 20 euro di una cena oppure anche 60 50 40 centesimi comunque è un contributo ad esempio io non ho mai ricevuto una mazza nel mio conto ma per forza perché non è che lo pubblicizzo fisica proprio sì no no non ho mai niente neanche quella ma magari avessi ricevuto una mazza almeno me la sei tirata in testo nei coglioni però neanche quello ma non è quello il discorso io vivo di altro se no cosa farei non farei altro che pubblicizzare questo conto in ogni video che faccio a livello video mentre che invece lo metto solo in fondo è sacro santo però io lo metto in fondo alle descrizioni quindi se uno si legge le descrizioni dice beh c'è anche il conto paypal dai paghiamogli un caffè si può anche fare ci sta tanti canali lanciano la sfida per darvi un'idea nei commenti cioè dai il prossimo video fai questa cosa qua e chiaramente questa cosa qua ha un costo io ad esempio io adesso vi faccio molte volte vengono fatte le donazioni per quel progetto lì io ti faccio questo esempio è una cosa penso normale io dal prossimo anno ho intenzione di usare questo conto paypal ok per ridistribuire i soldi che voi date in questo conto in sconti su amazon ok il discorso è se voi mi date i soldi su il mio conto paypal io ogni mese vi do il rendiconto di quello che mi arriva è arrivato top abbiamo attivato nei video quindi seguendomi vi do in qualche video dei codici sconto da sfruttare per 10 15 5 30 in base a quello che mi date voi in accumulo vi do dei codici sconto che potete usare per comprarvi le vostre cagate tipo non so la chiave usb il cellulare ad esempio un cellulare vi costa 300 euro con lo sconto sbragliandolo potete prendere a 280 sono 20 euro dici vabbè buttali via è già qualcosa di meno cioè questa è un'idea per dire che può essere avere un conto paypal ma non sono io a dirlo sono già tanti youtuber che fanno così perché perché io ad esempio vivo di altro Alessandro vive di altro Robby non ha un canale youtube ad esempio ma io sono convinto che se Robby avesse un canale youtube da domani 1000 iscritti ce li avrebbe subito hai capito ma detto ciò no vabbè adesso sto facendo lo stupido però questa cosa è seria il conto paypal è giusto che esista ed è giusto poterlo adoperare se 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 ne fa un uso oculato diciamo oculato e consapevole diciamo concreto su questa non sono molto d'accordo io invece sì io invece uno può usarlo come meglio crede io sono per la trasparenza più totale Alessandro se c'è la trasparenza sottolineo se c'è la trasparenza però anche solo per chiedere che cacchio ne so compriamo guarda mi viene in mente eh mitico Zumpano adesso è bello ha fatto una ha fatto una un piccolo video dove diceva ragazzi per crescere nel canale eh praticamente aveva aperto questo fondo donazioni per migliorare la telecamera roba del genere perché tanto è per tutti noi bello cioè lui l'ha proprio specificato sì 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 che sono arrivati ha comprato la telecamera il drone adesso non mi ha fatto lui mi fa morire cioè è simpaticissimo eh quindi cioè aveva fatto un progetto vi discorrendo ma uno per me cioè come vuole gestire le sue richieste cioè per me è sacrosanto tutto se tu vuoi anche aprire un video dicendo ragazzi tutto quello che avete mandatemelo perché domattina parto e vado liberissimo liberissimo di farlo ci saranno da spendere 5.000 euro devo arrivare a 5.000 euro liberissimo di farlo se tu hai una fanbase che ti segue e vuole vedere le tue cose è come quando tu guardi purtroppo la televisione paghi il canone Rai ok io ti do beh lì sei obbligato è un po' diverso ok cerca di seguire quello che volevo dire no no ho capito ho capito ti do un programma ti presento il progetto se a te ti piace vuoi vedere quella cosa mi dai un x quindi io vedo sacrosanto tutto anche richieste di qualunque tipo cioè ci hai messo la faccia quindi nel momento che tu lo dici cristallino vi chiedo dei soldi per fare questo infatti non è per quello che intendo che dico che non è sbagliato assolutamente mettere il conto l'importante è essere trasparente cioè se tu con i tuoi followers sei chiaro del fatto che tu questi soldi li usi per fare x o y e loro sono coscienti che ti stanno dando questi soldi è il primo è importantissimo ed è giusto così sta a chi ti ascolta e chi ti vive se darti dei soldi reputarti che sia una cosa giusta è quello quindi io vorrei fare tre piccoli esempi beh intanto se a me serve sapere qualche cosa su come cambiare un pezzo e robe varie io vado sul canale di Arcadia mi ha insegnato qualche cosa e magari imparando anche quella cosa di cui io sono ignorante oppure risparmiato e gliel'ho offro volentieri gliel'ho offro volentieri perché io che ad esempio con l'elettricità ti capisco poco e vorrei non metterci mano cioè grazie Alessandro ho imparato molte cose sì magari anche qualcosina ti voglio fare un altro esempio parlando di canali costruttivi che hanno dei contenuti io seguo molto piacendomi le macchine elettriche seguo molto Matteo Valenza cioè il canale di Matteo Valenza lui lo dice oh ragazzi se mi cliccate se mi aiutate più concessionari mi prestano la macchina cazzo ma io se ho bisogno a parte che è bravissimo a montare a fare i suoi contenuti ma se io io voglio scegliere un'auto guardo le prove di Matteo Valenza che fa dei servizi quasi più belli oppure di Davide Cironi Cironi cazzo Davide Cironi numero uno ragazzi c'è di cosa vogliamo parlare oppure ad esempio nell'ambito delle armi io sono appassionato di armi guardo il canale di Fabio di Outbreak Channel ogni tanto quando facciamo le chat live gli mandi 50 centesimi sul come si chiama sul super chat e lui e lui prende il bicchierino ok grazie però però io se ho bisogno di sapere qualcosa legalmente parlando meccanicamente parlando cioè io consulto la sua il suo canale perché mi serve perché mi serve è un discorso minato Max questo qua sì però ad esempio però è un discorso minato è vero però ad esempio anche Giamma Giamma lui non ha un Paypal mi pare ha uno store con le sue magliette come il tuo Alessandro sì sì e quando vende le magliette fa oh ragazzi bro mi sono arrivate 200 euro guardate ho preso la nuova cam visto che vi faccio venire sempre il mare è ovvio è ovvio però tieni conto che Max può essere tutto però comunque sia ogni persona che decide di mettersi in gioco e fare lo youtuber letteralmente porta qualcosa attenzione non esiste un canale che non porta niente ok non è una cosa fattibile altrimenti nessuno lo guarderebbe ognuno porta qualcosa in funzione io posso portare non so dell'imbecillagine a carriole spesso e un po' di quello che so fare mi piace portare informazioni dove non so chi è dove discorrendo e mi piace farti vedere come vivo il mio camperino da 3500 euro bene io potrei anche saperne un cazzo di manualità un po' zero totale d'accordo però ho qualcosa da raccontarti che sia la mia vita le mie impressioni i miei pensieri qualunque roba se ciò che dico ti piace io comunque ti sto dando un servizio ti sto regalando un'emozione un intrattenimento letteralmente intrattenimento se tu sei bravo a intrattenere ecco qual è la tua skill chiamiamola così sei bravo fai intrattenimento a modo tuo d'accordo non per questo tu non mi stai dando qualcosa io che ti insegno a montare la lampadina invece sì sono due cose sono due cose che do al pubblico in maniera diversa perché ci potrebbe essere dall'altra parte invece che guardare me guardereste uno che fa le mie stesse cose ma con un muso lungo così e con una voce di questo tipo adesso ragazzi io la guarderei se fosse una bella top e poi dopo sì ma dopo dieci minuti dove cerchi di scorgere le tette nella scollatura così nel video non si vedono c'ha ragione anche ti presento anche il mio cane voleva partecipare te scherzi ma io guardo io guardo tutti i forgiatori del mondo che sono bellissimi fantastico fantastico ce n'è una che è vichinga ve lo giuro cioè allora voi prendete me con le tette più grosso biondo con questi occhi azzucini la vichinga capito che se ti dà uno schiaffone e forgia lei e ci dà delle smazzate capito che sei lì Robby va guardata sono cose che vanno guardate te lo posso garantire il primo che ho seguito di tutti il primo di tutti che ho seguito è stato Jimmy di Resta io guardavo guardo sempre Vierega quello tedesco non mi ricordo che fa le spade enormi ha fatto un Bawi che ci volevano in tre a sollevare una rotaia cioè non lascia stare ragazzi cerchiamo di rimanere in tema dai ci rimaniamo scusate che stiamo andando un po' fuori in tema no 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 vabbè ma ci sta è anche perché stiamo dicendo chi dà dei contenuti ai quali dai qualcosa in cambio più che volentieri assolutamente no no parliamo un video il discorso al di là di tutto io a me capita di guardare spesso volentieri le live di Ale io spesso le guardo indifferita perché non non riesco a vedere quando lui le fa però e vedo che c'è chi da da questo da quell'altro anche una volta che ho fatto una piccola donazione ma perché mi ha dato un contenuto perché mi ha dato un contenuto ma al di là di tutto ci sta io avevo un dubbio avevo bisogno di una cosa Ale l'ho chiamato mi ha risposto ci siamo stati mezz'ora al telefono che non era poi il telefono era su messenger ma va bene in videochiamata eravamo in videochiamata su messenger ci è stati mezz'ora in videochiamata mi ha chiarito i dubbi che avevo le cose che avevo anche perché lui indiscutibilmente se ne intende molto di più di me io ho una tra virgolette buona manualità però se una cosa non lo so prima di andare a fare una puttanata chiedo l'ho chiamato mi ha risposto mi ha spiegato quello che avevo bisogno di spiegare quindi questi sono contenuti è logico che quando fa un live e mi dà un'informazione che mi fa comodo gliela pago anche volentieri che sia un caffè che sia una birra ma allora una domanda una domanda ve la faccio io ragazzi parlando di contenuti ma se il contenuto è fuori legge ecco mi stavo arrivando a quello no questa è una domanda che vi faccio io senza basarmi sulla chat perché in chat adesso c'è stata una sorta di dibattito sui soldi e quanto è giusto richiedere allora aspetta scusami Alessandro ti interrompo no vabbè in sostanza ci stanno dando praticamente ragione cioè il discorso di chiedere dei soldi al proprio pacchetto di followers in base anche agli argomenti che tu tieni e a quello che offri ci può stare e l'abbiamo già ormai diciamo osservato quindi è giusto è più che giusto però la domanda che mi sorge è questa ma se io volutamente non rispetto le normative quindi qui torniamo al al nocciolo della questione ok perché è quello che voglio io del fatto che noi camperiste veniamo odiati e il perché se io faccio l'asino per intenderci ok e faccio delle asinate che possono essere elencabili in tutto quello che fuori legge quindi abbiamo elencato fino adesso i fuochi il drone la passeggiata fuoristrada le scampagnate nei campi demaniali cioè ce ne sono di varie tipi di tutto e di più eccesso di velocità bene allora in quel caso lì faccio bene o faccio male a chiedere dei soldi su paypal rispondete è libero di farlo per me è libero di farlo dopo in coscienza se tu sei onesto dici lo dici cosa stai facendo poi dopo ognuno è libero di chiedere ognuno è libero di donare però sarebbe onesto dire a chi stai donando per che cosa stai donando io credo che ci siano è un discorso da dividere almeno in tre parti una parte etica una parte morale e una parte civile allora la parte civile è presto detto io ho chiesto una donazione qualcuno me la fa bene tutto a posto parliamo della parte etica la parte etica imporrebbe tra virgolette che fare un determinato tipo di cosa di contro io faccio esattamente quello che dico ed è così quindi va benissimo morale mi dovrei chiedere se sia giusto farlo o meno il problema è un altro non c'è niente di sbagliato nella società odierna ok nel chiedere una cosa che comunque anche se per ottenere quella cosa non è proprio tutto perfetto però quella cosa mi piace mi fa divertire è piacevole e voglio sostenerla perché purtroppo noi andiamo a vedere sempre quello che non si può fare allora youtube quando è nato noi forse l'abbiamo visto nascere youtube su youtube tu andavi a cercare le risate più pazze del mondo i gatti che facevano ridere i rotti più lunghi del mondo cioè cosa andavi a guardare tutto quello che ti dava faceva ridere o era virale d'accordo da lì chiaramente per far divertire il video virale fa sempre quindi se io se io vado a cercare un contenuto estremizzato io pago anche perché lo voglio vedere cioè se io voglio vedere sì do un'idea tu che mi passi con la moto da cross a cannone con tutte le moto da cross presenti sul mercato che intanto me le recensisci e in quel video terreni demaniali buche alte così nel terreno scappiamo inseguiti dalla forestale milioni di visualizzazioni io continuerò a fare quel video perché è così ce ne sono tanti di canali sul filo del rasoio guarda guarda Alessandro ti interrompo solo un attimo però forse sono contenuti se sono contenuti dopo il discorso etico-morale guarda Alessandro ti rispondo con questa domanda che è stata appena fatta da Michele G79 Matteo il problema non è chiedere i soldi il problema è che il tuo canale cioè in generale il canale è ancora lì nonostante tu stia postando contenuti contro la legge il regolamento di Youtube cosa dice? Eh lì purtroppo si crea purtroppo Michele lì si crea un gap un problema legato a a quello che è eh penale civile e quelli che sono i regolamenti di un di una piattaforma social e come vi ho detto qualche settimana fa quello che è successo anche con Valentina nella live e quello che è successo anche nel video che tra l'altro video che è ancora esistente e c'è ancora perché nel contesto in quel video di 10 minuti la sculacciata c'è ancora però ma io discorso che ci sono regole base su Youtube esatto nel criterio nel criterio di Youtube se fai quelle allora diciamo nel criterio di Youtube se tu posti un video di 3 secondi dove tu dai 3 sculacciate la tumorosa per Youtube è violenza sessuale è un casino ok? quindi strike ti segnalo e tutto il resto ok? se tu fai i 150 in autostrada e fai il video su Youtube a Youtube non gliene frega un cazzo piuttosto se tu metti targa orario e posti nome e cognome di chi sei puoi rischiare che ci sia magari il carabiniero il vigile che si alza storto e dice che cazzo fa sto coglione e quindi gli arriva la multa a casa poi dopo voglio vedere con il giudice di pace voglio vedere con il giudice di pace chi ha ragione dato che hai postato orario velocità l'hai fatta anche vedere e tutto il resto questa è la differenza che c'è tra Youtube quindi il mondo fittizio e il mondo reale composto da leggi penali e civili scusa Alessandro continua pure volevo rispondere a questa domanda no no dicevo non è mica non è mica la prima volta che c'è quello che ha scappato dalla polizia con la moto ha preso tutto con la GoPro l'ha messo online cinque giorni dopo salve venga venga funziona così però lì non entro nel merito cioè ognuno deve avere la sua bussola etica morale in determinate direzioni che decide lui quindi cosa tu vuoi portare come contenuti sul tuo canale io apprezzo molto di più che tu no che tu resti coerente cioè se tu hai sempre fatto il disastro ok il giorno dopo mi diventi il bravo bambino cosa è successo cos'è cioè fai il disastro è giusto cioè tu vuoi fare vedere determinate cose e vanno benissimo ragazzi hai incentrato il tuo canale su quella direzione fai bene a prendere quella direzione attenzione quella direzione piace esatto quindi c'è una regola di base la regola di base è a vincere sono i numeri vincono i numeri esatto non ci sono cazzi come Ale Rimor che ha mandato lascia perdere me lo chiuderebbero prima ancora di aprirlo il canale sì perché Ale Rimor gli ha detto ok da domani vogliamo il canale Robby Camion Killer me lo chiuderebbero ancora prima di aprirlo perché io quando sono alla guida del camion specialmente in determinate occasioni diciamo che ho la virgola facile molto facile credo viene giù il conclave direttamente a prendere schiaffi torniamo torniamo sulla terra cerchiamo quindi sai diventa difficile rispondere alla tua domanda dicendo è giusto o sbagliato per quello che ti ho appena spiegato mi sono appena spiegato è giustissimo se tu hai fatto hai creato questo tipo di pubblico che vuole vedere esattamente questo è giusto anche che tu chieda questa cosa esattamente per quello scopo lì che io non ci vedo niente di male lo stesso Ale Rimor infatti il ragionamento è perfetto il ragionamento è perfetto a tutti gli effetti un video di youtube è un servizio e dietro c'è un lavoro perché non finanziarlo ogni servizio va pagato e poi tra l'altro aggiungo Ale Rimor che non è un obbligo nel senso ci sono anche tanti youtuber che non mettono paypal lo fanno per passione e non lo fanno per motivi di lucro io ad esempio non lo faccio certamente per motivi di lucro se mal che vada mi pago una cena a fine mese sono già contento ok il discorso che stiamo affrontando è un po' più complesso a dire la verità in realtà è più etico proprio esatto più etico è più etico morale perché non c'è nessuno come dice Tabor che ti viene lì con la pistola e ti obbliga a dare dei soldi a uno youtuber certo questo l'ho detto fin da subito poi che sia giusto e che sia sbagliato questo è a discrezione di chi ascolta e di chi guarda se ci sono in 3000 che ti danno anche 60 centesimi un euro perché devi riparare una lampada o devi riparare un muro o perché devi comprare la nuova telecamera bene loro sono coscienti di questa cosa ti hanno dato i soldi hai ragione te fine anche perché sei stato trasparente fin da subito un conto invece è fare il fenomeno e chiedere questi soldi per l'anima di e poi dopo non hai neanche un resoconto è come se io e Alessandro avessimo fatto la raccolta fondi per Tiziano avessimo partecipato a questa raccolta fondi e non avessimo più detto niente di quegli 8000 euro lì oppure no neanche gli 8000 hai detto ragazzi tutto a posto è andato bene tutto a posto è andato bene via è finito però c'è più da dire anche una cosa questo succede sta succedendo ancora adesso ma dopo dopo ti faccio parlare Max e tra l'altro vi dico che cioè questa cosa qui è forse la cosa più importante in assoluto è ovvio che io ad esempio per come sono fatto io preferirei devolvere due spicci a qualcuno che ne ha bisogno ok piuttosto che ma questo sono io ci potrebbe essere anche il ragazzino invece che cazzo vive di quel canale lì e se non partecipa a dare 30 centesimi o un euro non sta bene non vive di notte quindi ragazzi questo è il pubblico di Youtube è una bella cosa bisogna purtroppo accettarla c'è poco da fare esatto dicevi Max no questa cosa della libertà da parte di tutti io l'ho detta finito subito ed è assolutamente sacrosanta l'unica cosa l'unica cosa che mi piacerebbe far riflettere non voglio vantarmi di riuscire a far riflettere le persone però io dico solo ma se tutti si comportassero come si comportano queste persone che voi supportate dove andremo a finire quello è vero quello è vero cosa cosa succederebbe se chi si mettono a fare così il tempo un anno e noi campanisti ti lasciamo il campo al di là al di là del mondo camper cioè per darti un'idea mica da tanto tempo c'è il problema anche con le moto da cross con chi fa le uscite in mountain bike perché sai prima erano in uno adesso discorso canali e vi discorrendo la gente fa dei danni vai dove non puoi andare è un casino anche lì moto da cross gente che si è trovata al filo di ferro tirato che li hanno presi qua quindi non cose brutte successe quindi non parliamo di fuoristrada 4x4 che ti spara dietro la forestale quindi c'è ovunque vai puoi aver creato quando c'è stato il fenomeno del parkour la gente che saltava in giro per i cornicioni c'era uno spettacolo fare in Italia capito quindi c'è ogni momento alla sua moda le sue situazioni è chiaro che si era arrivati a una buona pace dove arrivavi nelle aree di sosta c'erano poi io ad esempio odio le aree di sosta perché lo stanziale proprio però riusciva a arrivarmi nello spot in Sardegna fai la tua libera però dove la puoi fare falla dove la puoi fare perché dopo tu la fai dove non la puoi fare si vede lo fai vedere lo fai vedere io comincio a venire lì arriva l'amministrazione comunale e dice ah sì sapete cosa c'è che adesso chi mette la ruotina più avanti di qui sono 200 euro e io metto tutte le mattine una vigile si aprirebbe si aprirebbe un capitolo intero su chi emula sugli emulatori perché questo lo terrei per la fine nel senso purtroppo ci colleghiamo sì ci colleghiamo a quello che si diceva inizialmente che stanno nascendo e io dico purtroppo ma questo è un mio personale commento non prendetelo come come una regola una regola di base nascono 10 20 30 canali al giorno ok di persone che emulano questi tipi di comportamento quindi cose fatte alla cazzo fatte fuori norma fuori legge per fare visualizzazioni per pericolose per raccattare consensi in maniera più facile ok camperizzare i furgoni lasciandogli omologati autocarro anche anche fare oppure camperizzare dei camion in maniera non non idonea ok ci sono tanti esempi tanti esempi che stanno nascendo di canali appena nati ma anche canali già esistenti e il trend purtroppo è quello lì cioè si sta seguendo secondo me e ripeto secondo me un trend sbagliato anzi dico sbagliatissimo perché è quello che ci porterà purtroppo ad avere seri problemi per noi che viaggiatori itineranti le regole le rispettiamo o poi ditemi la vostra cosa ne pensate degli emulatori ma io vedo che la maggiore io vedo che no io vedo che molti emulatori e in quanto emulatori spesso e volentieri inesperti se tu ti permetti di dire qualche cosa di avverso qualcuno ti dà anche dello stalker cioè allora tra l'altro dare dello stalker non è una parolaccia intendiamoci potrebbe essere stalker anche Alessandro e Robby e stalker anche il mio cane perché mi segue però attenzione quando una donna ti dice che sei stalker intanto devi capire che cos'è il significato di stalker ok se ti faccio notare il contesto bisogna capire il contesto bisogna capire il contesto per cui se tu poi ti lamenti vieni in un canale dove facciamo dell'ironia e vieni a dire ma voi siete degli stalker perché noi siamo dei ragazzi giovani che vogliamo fare delle cose così e no ciccia pasticcia ti stiamo facendo notare che stai sbagliando delle cose te lo sto dicendo quantomeno prendi spunto vatti a informare e guarda per il tuo bene magari per il tuo bene ma facciamo che per il tuo bene sono cazzi tuoi per il bene di tutti gli altri per il bene di tutti gli altri allora se ti stanno dicendo c'è una regola in Sardegna non puoi fare campeggio libero arriva il forestale il carabiniere arriva qualsiasi qualsiasi altra entità pubblica e ti dicono le cose e poi quando questo se ne va lo prendi pure per il culo lo scanzoni anche e beh qua non diamo fastidio a nessuno mi fa sorridere che vieni qui ma scusami ma te lo stanno dicendo c'è scritto come fai a non andare ad informarti prima o meglio forse ti sei informato prima solamente che non te ne frega niente è come stavamo dicendo prima con Ale cioè adesso tutti infatti io adesso parlo da ignorante però non so se Park4night sia proprio una genialata in tutto e per tutto prima lo era adesso no è un po' pericoloso prima lo era è sempre una questione di numeri Max cioè quando nasce un'applicazione che è fatta appositamente per trovare posti in libera ma non solo anche aree di soste e quant'altro e anche di nuove l'idea è fantastica e segui l'applicazione quando però i numeri quadruplicano e quindi quadruplicano anche gli utenti che ne fanno uso dopo diventa un po' un problema perché non tutti dicono intanto la realtà di quello che certo perché io usando anche Park4night delle volte mi sono trovato delle troiate cioè mi sono trovato in troiate in situazioni non certamente bellissime anche dove non riuscivo neanche a fare manovra ma a parte questo a parte questo però ho visto anche degli abusi però però scusatemi allora io ho visto anche un uso di Park4night un po' cioè quando uno cioè evidentemente se ti hanno educato a non rispettare la privacy delle persone ora se io faccio il camperista e non ho non voglio condividere insomma mi voglio fare gli stracazzi miei e ti arriva quello che ah che bello su Park4night c'è questo però guardate c'è una Toyota lì c'è un Ducato là avete visto questo mezzo molesto qui e magari lo inquadri anche dentro che magari lui non gradisce che magari lui non gradisce cioè mi sembra una cosa un po' controproducente cioè non tutti vogliono condividere magari vogliono fare un viaggio estremamente riservato no mi sembra che adesso questa cosa non sia più possibile magari c'è il marito con l'amante che ha fatto la fuga arriva arriva questo guardate che mezzo molesto ti piace la menta cioè guarda ti faccio ridere Max faccio ridere Max io l'idea che avevo adesso non mi interessa più perché sto insieme con Valentina ma tempo dietro non volevo fare non volevo mettere caratteristico il mio camper per non farmi notare ok bombatore seriale esatto il bombatore seriale non si vuole far notare con un calcano adesso invece tutto il contrario dopo che mi hanno rubato il camper ho pensato che lo tamarrerò talmente tanto che se hanno anche intenzione di rubarlo sanno che hanno rubato il camper sbagliato hai già cominciato perché le pinze dei freni rossi non si possono guardare Robby dimmi cosa ne pensi delle dimmi cosa ne pensi di chi copia e di chi emula queste brutte vicende o queste cose che insomma non sono regolari ragazzi io poi dopo sapete che mi parte la virgola cioè il discorso tanto per dirti ne faccio una semplice il video che è uscito pochi giorni fa di quella scusami Robby scusami Robby un attimo ti interrompo solo velocemente allora risponde a una domanda di Esaias Mellillo che fa una puntata dedicata a Iari praticamente no 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 direi che stiamo parlando stiamo parlando praticamente decisamente no di tutta una serie di casistiche di cose che con Iari non ha niente a vedere poi se dentro a queste cose ci si trova in mezzo pure lui perché ha fatto della roba anche lui beh saranno cavoli suoi non sono mica cavoli nostri anche perché noi abbiamo parlato in maniera molto generale e stiamo cercando solo di far capire alla gente del perché ci odiano ok e ci stiamo riuscendo stiamo riuscendo a capire quali sono gli atteggiamenti sbagliati i comportamenti che purtroppo i territori no anche perché ragazzi molto più ampio adesso stiamo parlando dell'odierno ma devi tener conto che c'è è anche tutto quello che è già successo da 40 anni a questa parte cioè all'inizio il camperista era proprio allo stato brado che è il camper quindi da lì l'evoluzione è stata lunga quindi anche fino a 10-12 anni fa youtube non esistevano tutti questi canali c'era già il disastro anche perché ragazzi vi posso dire una cosa e rispondo vi farmo un attimo rispondo anche a g.mastorna che fa si infatti pubblicità al guidone ragazzi non penso che gli al guidone abbia bisogno della nostra pubblicità ma proprio cioè noi noi quattro se fossimo anche in 17 per mille non riusciremmo ad arrivare ai suoi iscritti però non riesco a capire perché si pensa io non ho mai avuto intenzione non l'abbiamo neanche quasi nominato stasera nel parlarne male per l'amore di Dio vuol dire che avete un po' esattamente in tutto quello che ho detto prima se a lui piace fare determinati tipi di contenuti questi contenuti piacciono è giusto che lui continui a fare cioè ricade esattamente abbiamo anche detto che se uno vuole raccattare su dei soldi col suo conto Paypal e lui ci trasparenta ai suoi utenti come e quando li vuole spendere fa bene perché tanto bene o male il problema non è il suo il problema eventualmente è chi dà questi soldi cioè e poi non è neanche un problema non è neanche un problema perché se io domani mi alzo e voglio pagarmi una mutanda e vi chiedo ragazzi non ho soldi mi servono 10 euro per pagarmi una mutanda io se vuoi ti pago la sgommata questa te la posso fare anche grazie domino bianco sei piccato lascia stare lascia stare mi sto già mi sto già prepando no dai torniamo torniamo al punto di prima che andavamo bene torniamo al punto di prima che andavamo bene no non stiamo parlando di lui non stiamo parlando del singolo ragazzi cioè qua adesso in chat sta esplodendo un casino perché stanno mettendo a dibattere su questa cosa ok allora posso dire io posso ci dire io io non lo leggo allora G Mastorna non lo nominate ma dai state esattamente parlando di lui per favore secondo te secondo te perché esatto secondo te perché secondo te perché se abbiamo nominato alcune cose che anche lui ha fatto cioè non è colpa nostra ma noi abbiamo nominato queste cose perché in tanti purtroppo lo stanno facendo dimmi perché no se mi spieghi perché comunque tornando a noi nel frattempo che che ci sia una risposta eventualmente vabbè il fatto è che qui dentro non abbiamo paura di parlare male di nessuno anche perché i nomi e i cognomi li conosciamo è stato di parlare male no ma poi no ma voglio dire che se ci fosse anche l'occasione di farlo chi secondo voi più di me non avrebbe stasera l'occasione di poter rispondere a Yari Ghidone perché mi sono arrivati dei vocali di Yari nei giorni scorsi ma non ne parlo certamente stasera in diretta non mi sembra il caso anche perché proprio per questo motivo vi sto dicendo che uno come Yari sa fare il suo mestiere è benissimo è il migliore sa benissimo sa benissimo come funziona questo mondo e già il fatto di tirare fuori in chat il suo nome è un vantaggio ok io stasera come tutti voi e come i miei ospiti abbiamo cercato solo di far capire a chi ci segue che purtroppo i territori porca di quella puttana ci stanno chiudendo le porte in faccia per le nostre vacanze ok per le nostre vacanze itineranti in libera perché ci sono purtroppo tanti camperisti che non rispettano le regole punto cioè ti è chiaro Mastorna ti è chiaro G Mastorna no no ma guarda Max lascia perdere non siamo qua per far polemica no 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 assolutamente no nessuna polemica cioè il discorso è una cosa molto più grande è un discorso che meriterebbe più di una live ok e più di una live e più in canali e in più canali perché bisognerebbe diffondere questo messaggio bisogna che la gente da sola capisca cos'è giusto e cos'è sbagliato l'importante è far vedere ok che esistono anche quelli che le regole le rispettano ok e si parla di youtube eh cioè rispettare le regole tu rispetti le regole anche se fai delle bellissime libere nessuno ne discute certo 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 non è secondo me qui dico proprio secondo me non è una cosa corretta far trasparire anche involontariamente che determinati tipi di azioni siano normali se ti scappa di farlo sarebbe meglio non farlo vedere lo fai almeno buttaci dietro un mi raccomando ragazzi mi è scappata non va fatto non va fatto ok ecco perché da lì in avanti ripeto ma tutto lì alla fine io mi prendo anche le persone locali ad esempio possono essere in questo momento sarde ma semplicemente perché è un momento che sono tutti in Sardegna che va bene bellissimo però chiaramente c'è magari non trovi aree di sosta molto vicine ti tocca di scaricare il WC dove? nelle fontanelle nei tombini dove le metti cioè potrebbe essere una regione che dopo un po' se ne ha male non oso pensare la prossima stagione cosa non succede è facile che troviamo prezzi aumentati o comunque vigili molto più incazzati forti il discorso del chimico oltretutto è un discorso molto delicato cioè io capisco che a delle volte si faccia fatica a trovare il posto dove scaricare l'area camper se vai nei campeggi ti chiedono delle cifre spropositate però bimbi belli io che non ho un canale youtube che non devo far vedere niente io sul camper ho un gancino per tirare sul tambino delle fogne cioè quando tiri sul tambino delle fogne e il chimico lo scarichi in fogna è un conto se me lo scarichi in mezzo a un campo dentro un fosso è un'altra cosa si chiama inquinamento si chiama inquinamento io adesso ho imparato un'altra cosa grazie grazie questa cosa qua beh questa la sapevo anch'io per me è una cosa geniale geniale non combino qualsiasi cioè parte da un presupposto non si può fare quello che dice Robby dice se proprio devo che sono al brevio almeno lo metto praticamente il riassunto di Robby è se ti esplodi di merda ti esplodi di merda il cervello e non sai più dove scaricare piuttosto che andare a immelmare un succo di Robby perché giustamente bisogna spiegarlo non ho detto la premessa che non si può fare però se devo scaricare in un posto che vado a inquinare piuttosto scarico in un tombino perché scarico in fogna cioè è quello lì la cosa fondamentale ragazzi il chimico va messo dentro la fogna il sistema io ho un sistema che me l'ha fatto venire in mente mia moglie che io non c'avevo neanche pensato ma è una genialata lo può fare logicamente chi ha la cassetta come io come a Matteo così chi ha il nautico non lo può fare certo io nel gavone del camper tengo sempre un trolley di quelle borse trolley da fast forward sì sì con la seconda cassetta da fare il cambio no 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 io ho questo trolley se me la vedo grigia tiro fuori la mia bella cassettina la metto dentro il trolley col mio bel chimico con quello che mi serve che non li vede nessuno vado in autogrill quando sono chiuso dentro al cesso che vado in batter allora butti nel batter quello che faccio dentro il bagno lo so io la verso dentro il batter ma comunque va in fogna ok ok cioè sì nella peggiore delle ipotesi comunque scarichi la roba nera nella roba grigia in sostanza cos'è che hai detto prima no cos'hai detto tu prima hai detto cosa c'è un trolley grigio no se la vedo grigia ha detto la vedo grigia praticamente ha fatto un trolley di merda un trolley di merda però ragazzi sì al di là di di tutto cioè sono ragazzi il chimico va in fogna non in un campo non in un fosso sono tutti gli atteggiamenti sai quando ti trovi comunque in una parte dove sei lì sul filo del rasoio a livello della legalità cioè ci posso stare della serie il demanio non ha mai emesso particolari cose nessuno gli ha mai rotti coglioni perché al massimo c'erano due vanni in un anno quando andava bene quando l'anno prossimo troviamo mansardati camper motorhome van casino la gente chiaramente scaricherà per terra butterà lasciare i rifiuti vi discorrendo noi arriviamo alla fine dell'anno prossimo che vedrete quante zone saranno a pagamento o interdette o a multa o a di tutto purtroppo succede purtroppo succede ma non è quello ci sta fa parte del gioco cioè quando ingrandisci il bacino di utenza fa parte del gioco Robby ti hanno detto che hai detto una grande cazzata no me lo sono perco Gaz Channel ha detto un enorme ha detto un enorme cazzata quello in bassa sinistra quello in bassa sinistra meno male che non sono io sono in alta sinistra allora aspetta che non secondo me parla parla del fatto che scarichi in fogna o nel cesso ma guarda secondo me quello che ha detto Robby è il famoso extrema razio cioè non ho proprio modo almeno scarico nel punto corretto non potendolo fare sottolineo cioè non si possa andare per i tombini ok però ripeto in extrema razio per una ragione ce ne so che si devo fare giusto io amo il nautico per quello anche lui a un certo punto si riempie però ho più autonomia però sì quella possono essere una delle duemila ragazzi di situazioni ragazzi vorrei spiegarmi perché allora forse è passato male il discorso che ho fatto io perché sto io ti ho capito benissimo sì sì io ti ho capito cioè tu vuoi andare a rompere tutti i tombini per rubarli bravo io ti segnalo assolutamente il chimico va in fogna il tombino che intendevo non è il tombino delle acque piovane quello delle scuole delle acque piovane non è la fogna ragazzi quando voi tirate l'acqua in bagno quelli ghisatondi esatto ecco bravo bravo quando voi tirate l'acqua in bagno va in fogna non va nelle acque piovane non va nei pluviali si chiamano così cioè il gancio mi serve per aprire un tombino della fogna non per aprire un tombino dei pluviali assolutamente secondo me sei stato chiarissimo sì 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 no non c'era non c'era bisogno era giusto chiarire perché giustamente c'è chi si è connesso chiariamolo di essermi spiegato male no perché è come è come quando ero in live con Ale quella volta che gli ho consigliato di girare con la bombola del gas aperta che mi hanno detto ma cosa stai dicendo è una cosa sbagliata è stata un'esplosione capito grazie il giorno dopo esplode un camper e colpa di spragliando infatti il mansardato non si può fare assolutamente è stato dando un messaggio sbagliato forse ti è sfuggito che è un estrema razio se non è c'è possibilità di farlo piuttosto che andare nelle fontane pubbliche per strada nei campi robe varie cioè piuttosto che è sempre un'operazione purtroppo sbagliata anche quella sì certo posso capirla non la condivido ma posso capirla guarda Ale rispondo solo un attimo a G Mastorna che mi chiede di inserirmi ora siamo a un'ora e quaranta di live ormai secondo me la chiudiamo qua altri dieci minuti massimo non di più che mi chiede se potrebbe inserirsi nel confronto perché lui penso che sia spagnolo sia in Spagna allora io ti dico Mastorna una cosa questa live ormai è chiusa qua però ci teniamo in contatto magari mi scrivi su messenger o su instagram e decidiamo magari di fare una live incentrata sul confronto tra Italia e Spagna cosa ne dici Mastorna rispondemi in chat e così facciamo una bella serata incentrata su questa cosa qua esattamente Penny è esattamente quello che ho detto io scaricarlo in un wc questa pausa è stata bellissima è venuta Robby scusa dicevi Alessandro prima te ho interrotto mi dispiace scusa non me lo ricordo mica più stavi dicendo che ero bellissimo che Max ce l'ha grossissimo e che Robby è un ragazzo educato giusto? stavi dicendo questo perfetto ragazzi secondo me ormai siamo arrivati alla fine abbiamo parlato veramente di tante cose stasera Mastorna mi dice non uso social allora se non usi social diventa dura anche fare una live stream non usi social però sei qui però sei qua però sei qui su youtube quindi ci sei esisti allora facciamo una cosa Mastorna se hai un computer e hai un browser ok scrivimi magari un messaggio su youtube non so mandami una mail tanto lo trovi nelle descrizioni poi ci mettiamo se no scusa basta che ti fai lasciare nei commenti la mail e gli scrivi dopo troppo complicate c'ho la mail mi mandi la mail con i tuoi dati e dopo ci contattiamo magari ci diamo anche un colpo di telefono se non sei in Spagna però possibilmente ecco comunque tornando a noi ragazzi siamo a un'ora e 45 minuti volati volati veramente anche perché abbiamo parlato di tante cose per chi si fosse messo in ascolto solo ora abbiamo parlato di come e di cosa sta succedendo ultimamente nei territori in Italia non per fortuna a tutti ma l'idea purtroppo che abbiamo noi e in questa live l'abbiamo apertamente dichiarata è che nel giro di pochissimo tempo purtroppo tanti tante amministrazioni comunali decideranno in pompa magna di chiudere il transito a noi camperisti e di renderci la vita pressoché impossibile quindi nel corso di questa live abbiamo toccato vari punti e vari comportamenti che potrebbero influire su queste scelte che tante amministrazioni stanno portando avanti e spero che voi che avete seguito questa live possiate adoperarvi per capire ok chi è nel giusto e chi è nel sbagliato senza diciamo forzature ne riparleremo perché merita più di un'ora e mezza questo discorso magari non lo faremo la prossima volta perché sono una rottura di coglioni però però anche perché la prossima volta parleremo di topa sicuro 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 però vi posso garantire che ritorneremo su questo argomento perché ci devo battere il chiodo non è possibile che sì sì no anche perché cioè davvero la cosa sta prendendo una piega brutta secondo me e sta andando verso sta andando verso una una deriva proprio la direi la definirei proprio deriva e quindi la deriva no è vero è vero io ho una grande paura per il futuro soprattutto noi che adesso abbiamo voglia di andare in giro ragazzi sappiate una cosa e qui ve lo dico ok se ci sbloccano da marzo in poi perché quelli sono più i tempi marzo aprile temo anch'io ci sarà un bordello che voi non avete idea perché poi la gente si ritroverà con intanto un camper appena acquistato che non ha mai avuto prima ok quindi i pocci i pocci che si vedranno in giro e le cose che si potranno raccontare via social lo sapremo solo noi e io forse un po' non ne vedo l'ora ok perché io su queste cose qua ci sono io no però no però per dirvi che con quello con quello che sta succedendo intorno a noi e quelle e quella forzatura e quel lockdown che ci è stato imposto scoprirà un bordello perché ci muoveremo tutti in massa ci muoveremo tutti in massa e riempiremo ogni buco possibile immaginabile avete un buco del culo si riempiranno quello male garantito male malissimo quindi mi raccomando continuate a seguire queste vicende con il giusto dramma ok perché col patos necessario col patos necessario perché ne vedremo vedremo delle belle comunque alla fine dobbiamo anche ringraziarli perché comunque ci danno eh lo spunto per fare delle live dove ci ci si racconta ma guarda io Max ne facevo anche a meno e ti dico la verità io al momento non è che ho fame di fare visualizzazioni sulle disgrazie perché questa io questa la ritengo una disgrazia prima di tutto anche perché ripeto usciremo fuori dal lockdown ci troveremo per fare grigliate per andare in aree di sosta tutti i weekend saremo da qualche parte vi posso garantire che non riusciremo più trovare un buco libero e poi con dei costi irragionevoli io la mia paura è che troveremo veramente dei campeggi ok con dei prezzi esorbitanti beh è già successo con Ivan mi pare giusto Ale beh guarda in realtà cioè proprio c'è una mutazione genetica ok una mutazione genetica ok dei prezzi 20-30% in più dei prezzi cioè state comodi st'estate proprio cioè vi troverete l'area di sosta 25-30 euro comodi io vorrei lasciare solo un ultimo messaggio a questi ragazzi che aprono canali di youtube tutto quello che fate è ammirevole fondamentalmente nel concetto è ammirevole però imparate un po' di umiltà di buona educazione e soprattutto chiedetevi se state facendo danni e se questa cosa la pagherà anche tutti gli altri che non hanno la vostra stessa forma mentis no sì eh Max il discorso il discorso che hai toccato è quello che abbiamo ribadito anche prima è che secondo me in tanti forse non lo capiscono perché non ci pensano non è che non lo capiscono non è non hanno non hanno il pensiero profondo di arrivare a dire ma arriverà dove? arriverà quando è troppo tardi però arriverà dopo quindi ecco perché dobbiamo calcare calcare l'argomento dobbiamo battere il chiodo e continuare su questo versante posso consigliarvi una piccola lettura sì vai Max molto bella allora l'ho appena preso un viaggio lungo un sogno questo qui è uno che ha camperizzato un VM90 e ha fatto e ha fatto un viaggio dall'Italia in Sudafrica in quasi per caso è un diario di bordo fantastico bello no non sono sponsorizzato non lo conosco no no vabbè non c'è nessun problema però comunque no allora io ringrazio intanto i miei ospiti qui alla mia destra ringrazio il generale Max Longo che sarà sicuramente sarà sicuramente di ritorno nelle grandi frequenze di sbragliando ringrazio sotto di me Roby il camionista incazzato che rivedremo sicuramente in un prossimo canale che si chiamerà il camionista killer giusto? il camionista killer così lo consigliamo guarda guarda facciamo 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 un'operazione lo facciamo insieme ti prego ci distendiamo in due ti aiuto perché deve essere una roba bellissima dimmi no cosa Roby io non saprei da che parte cominciare ascolta Roby però ce l'hai lo scarico ce l'hai lo scarico con la valvola che si apre tamarissima che fa bram bram no 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 assolutamente io sono no perché quando si avvicina la preda fa troppo rumore esatto esatto allora esatto ragazzi un aneddoto e poi chiudiamo ai tempi della moto io quando comprai la moto la Goldwyn quello che ce l'aveva che me l'ha venduta tra virgolette ci aveva messo due scarichi esagerati facevano un casino della madonna sulla Goldwyn poi sulla Goldwyn che è un 6 cilindri che è utile io sono tornato a mettere le marmitte originali perché a me il casino che facevano mi dava un fastidio a me quando passa una moto che fa un bordello della madonna e poi non va un cazzo tra parenti problema è quello se almeno vai grande Roby sono i cosiddetti cancelli esatto e quando invece fanno un casino della madonna e senti che non si allontanano che dici ma Zio Camade a cosa serve sapete la cosa bella di queste live è che non mi preparo neanche le domande perché va tutto quanto da solo è meraviglioso allora io ringrazio anche l'enciclopedia del camper ovvero Alessandro Arcadia on the road buonasera ragazzi che rivedremo sicuramente anche lui nelle nostre frequenze io vi saluto e ci vediamo intanto domani per una premiere speciale sul Natale Natale in famiglia sbragliando e se sono così un motivo ci sarà temo anch'io ok bene quindi vi aspetto domani alle 9 per la premiere e vi aspetto mercoledì con gli auguri fatti da me e Valentina che finalmente torna dopo una pausa più che dovuta tra covid e tanti altre vicende che è meglio non nominare ok ragazzi vi saluto buona serata ci vediamo alla prossima un bacione ciao da sbragliando buonanotte buonanotte a tutti ragazzi ciao buonanotte a tutti buonanotte a tutti ciao